La farmacovigilanza, uso una definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è definita come la scienza e le attività finalizzate all'identificazione, alla valutazione, alla comprensione e anche alla prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali. Questa è un po' una sintesi. Infatti possiamo dire che nessun farmaco è del tutto esente da rischi e quindi è necessario sorvegliare costantemente il profilo di tollerabilità dei prodotti presenti sul mercato. Un evento avverso è qualsiasi episodio negativo o dannoso che si verifica in un paziente trattato con un prodotto medicinale, indipendentemente dal fatto che tale episodio sia associato meno a quel prodotto. Non c'è un nesso causale con il farmaco stesso. Alcuni esempi di evento avverso sono le sospette interazioni con altri farmaci, quindi interazione farmaco-farmaco, abuso di farmaci, errori di terapia come l'assunzione di dosi eccessive e anche per esempio il peggioramento della patologia in un paziente che viene trattato appunto con quel farmaco.